Ciao a tutte ragazze, oggi mi vedrete struccata perché insieme a voi voglio provare a fare una maschera viso che ho trovato l'altro giorno su internet, principalmente gli ingredienti sono lo yogurt e il miele, quindi reperibili in casa, io l'ho personalizzata un pochettino perché mi sembrava un po' troppo liquida, quindi ho aggiunto un po' di farina per addensarla un po' e un po' di succo di limone perché ho notato che ultimamente ho un po' di macchioline in faccia, quindi il succo di limone aiuta molto ad eliminare le macchie della pelle. Questa maschera è antibatterica e purificante, quindi volevo provarla insieme a voi per vedere un po' l'efficacia. Allora, io ho deposto tutti i miei ingredienti dentro una tazza, poi ho mischiato il tutto con un cucchiaino cercando di non far venire i grumi alla farina e l'applicherò con un semplice pennello, quello che avete in casa, va benissimo. Allora, mi vado a legare i capelli con il mollettone perché altrimenti mi sporco tutta. Un cerchietto, ok. Uh, che bella faccia! Che ad America proprio! Allora, vado a stenderla sul mio viso. Vedete che è molto più densa con la farina, cioè nel senso io poi va tenuta su per mezz'ora e sinceramente stare per mezz'ora in casa con la maschera che mi cola su tutto il viso non... L'idea non mi piaceva molto. L'applico così. Il tempo di posa è 15 minuti, mezz'ora. Ok. Beh, le dosi... Sono... Io ho usato un cucchiaio di yogurt e un cucchiaino di miele, bello abbondante però. Poi dipende un po' da voi, perché si può utilizzare anche sul corpo, ho letto. Quindi magari se ne fate un po' di più poi l'applicate anche sul corpo. Una cosa che faccio spesso io è quella di utilizzare il miele col sale. Per uno per fare lo scrub del viso. Ho sempre fatto quello lì e mi sono trovata sempre bene perché ti lascia la pelle bella luminosa, pulita. Quindi se volete magari fare prima uno scrub con miele e sale e poi fare questa maschera qui, secondo me, se questa maschera è efficace, verrà un buon risultato. Una bella pulizia del viso. Quindi adesso dovrò stare per casa con questa cosa qui. Meno male che mi è finanzata a lavorare, perché sennò lo spaventavo, sembra tipo... un mostro. La yogurt fa bene anche per i capelli, ho letto. Infatti penso che la prossima volta la polverò sui capelli. E dicono che fai venire i capelli più luminosi. Deve venire il postino e spero che non venga in questo momento. Speriamo di no, perché altrimenti devo scendere così. Cioè, no, non scenderò mai così. Quindi dovrei lavarla via, rimetterla. Però di no. E niente ragazzi, lasciamola agire per un po'. E ci vediamo dopo. Eccomi qua ragazze, ho rimasso la maschera viso. L'ho tenuta su 20 minuti e non mezz'ora, perché avevo paura che arrivasse il postino. E mi ci trovo bene, la pelle è molto più luminosa, è morbida e penso che la rifarò, me la segno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se la fate anche voi, come vi trovate. E ci vediamo la prossima volta. Bacione!